Tra le cose importanti per una coppia di sposi che va a vivere in una nuova casa, quindi nel nuovo classico nido d'amore, l'importante è l'arredamento, a cominciare dalla cucina, ma anche tutte le altre camere. Allora siamo con Bucalo Cucine, però sicuramente non solo cucine. Non solo cucine, partiamo dal presupposto che arrediamo un po' tutta la casa, quindi andiamo a fare la cucina, ma andiamo anche a fare la parete attrezzata, gli armati, le cabine armate, ci occupiamo diciamo di tutta la casa. Però naturalmente parliamo di cucine, quindi anche di cucine particolari, non sono le classiche cucine, ma sono cucine particolari. Cucine in massello, tutti gli interni sono tutti in massello, tutte le parti a vista sono tutte in massello, quindi parliamo della cucina qualitativamente all'avanguardia. Quindi parliamo anche di elettrodomestici? Di elettrodomestici sicuramente all'avanguardia, poi possiamo creare, essendo che siamo dei produttori, possiamo creare del design per come vuole il cliente. Quindi questo è anche importante, perché da qualche tempo a questa parte c'è il computer, un po' che viene in aiuto di coloro che appunto... Siamo proprio degli artigiani e quindi del computer ne facciamo almeno. Quindi riuscite negli spazi che loro vi danno a fare la cucina su misura? A fare tutto, di tutto, dall'isola centrale allo spazio piccolo, al pezzo fuori squadra, perché, ripeto, siamo degli artigiani, quindi ci possiamo arrivare a fare tutto. Poi 40 anni di esperienza contano. Contano tantissimo, infatti, ma dove vi possiamo trovare? Noi siamo a Barcellona Pozzo di Cotto, in via Cairoli, numero 276. Quindi ricordiamo Bucolo, Cucine e non solo. E non solo, anche arredamenti di vario genere. Grazie e buon proseguimento di questa fiera. Grazie a tutti.